È terminato da pochi istanti il secondo vertice di maggioranza, convocato a Palazzo Chigi con il Premier Giorgia Meloni, con i due Vice Premier Matteo Salvini e ovviamente anche Antonio Tajani. C'era Maurizio Lupi che proprio pochi istanti fa è passato ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni aeree al telefono. Era presente anche il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Perché questo secondo vertice di maggioranza che ha seguito quello di una settimana fa? Perché si deve parlare della manovra economica. Da qui si parte, lo ha ricordato anche oggi proprio il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in una conferenza stampa che in realtà aveva un salopore politico alle insegne dei nuovi ingressi di Forza Italia. Avvistato anche mentre entrava a Palazzo Chigi, sempre a bordo di una macchina, il neoministro della Cultura Alessandro Giuli, subentrato come lo sapete all'ex ormai San Giuliano. Si parla ancora tanto di lui. Lo si farà domani quando l'Aula tornerà dopo la pausa estiva a riunirsi. Grazie. 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 Grazie.